Si sono ritrovati sulle scalinate d'ingresso a Palazzo di Città e hanno celebrato il funerale del commercio. Così ieri sera con tanto di manifesti funebri e candele accese, quanti hanno aderito alla manifestazione di Insieme per Pescara e il collettivo Commercianti per un piano parcheggi ritenuto tardivo e insufficiente. La petizione lanciata sul web da Insieme per Pescara in poche ore ha raggiunto 500-600 firme, mentre il Comitato dei Commercianti ha superato le 100 adesioni. Una protesta funebre contro i disagi e i danni subiti dal consistente taglio dei parcheggi creatosi in centro a causa dell'avvio dei lavori di bonifica nell'area di risulta, ma anche contro la carenza idrica imputabile in parte anche ad una mancata programmazione di interventi manutentivi dei sottoservizi idrici cittadini. Queste dunque le immagini della protesta di ieri sera.